Però mi piacerebbe sentire, credo che il dottor Paesante avrebbe un'opinione sicuramente più centrata della mia. Facciamo che la mia sia l'idea della donna della strada, va bene, un'idea generica. Allora innanzitutto vorrei ricordare che chi ha scelto di aiutare molte banche è stato proprio il PD, quindi adesso potrebbe il PD andare a chiedere a queste banche, che sono comunque dei soggetti privati, di diritto privato, che fanno impresa, di andare ad aiutare lo Stato e gli imprenditori che sono stati mandati a fare debiti, letteralmente, perché lo Stato ha aiutato le imprese dicendo loro di andare a fare dei debiti. Mentre sappiamo benissimo che nelle altre economie europee, sicuramente più sane della nostra, non è successo niente di tutto questo. Quindi il mio contatto con le imprese restituisce uno scenario deprimente e preoccupante. Dopodiché che tutti quanti giriamo la schiena perché tante persone ancora riescono a ricevere qualche sussidio, magari pagato con ritardo, credo sarà un stipario che si alzerà molto presto su una realtà decisamente più triste, più difficile di questa. Però ripeto, penso che forse, anzi probabilmente, l'opinione più competente sul punto sarà quella del dottor Paesante.